e quindi buona partita e chiudo va buona, va buona vediamo se riesco ad aprire se li lasciate qua sempre che sia un cosiddicolo vediamo se ce la facciamo dovrebbe esserci in teoria vediamo se ce la facciamo ok ce l'abbiamo fatta va buona va bene, va bene c'è un po' di problemi con un po' di problemi con la chat ma va bene lo stesso questa variante la nave dei leoni che mi pare di aver lottato a volo di potizia un mese fa comunque per fare un po' di ricapitolare un po' è un studente di uh si subito è uno studente del mio diciamo e ha sempre questa voglia di attaccare come se non ci fosse un domani che tutto sommato glielo concediamo vedete che è andato subito a approcciare un altro angolo grazie a tutti vedremo, fatica si pronuncia piena di colpi di scena tipo questo e mi fa tirare fuori una parte di me che solo lui riesce a tirare fuori ha questo suo modo di... lo sfida un... e non riesco a farlo semplice ecco e questo è il mio avversario questa serata non c'è hai la mente di fare Sì, me lo immagino semplicemente. E parto già. A fare questi errori. 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 A chiudere i giosecchi. 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 che ha messo malino ma non è un problema non è un problema eccolo lì giustamente va a pressare non è un problema 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 penso che ci riprenderemo non è un problema 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 è un problema è un problema è un problema non è un problema è un problema non è un problema 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 e quindi e poi è un problema 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 questo problema è un problema vedete e quindi è un problema è un problema questa cosa è un problema è un problema è un problema e quindi è un problema 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 e quindi è un problema 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 e ci vediamo è un problema